Allora, qual è la vantaggiosa offerta infostrada per telefonare la casa? Happy No Limit. Con 19,95 euro al mese puoi parlare in tutta Italia senza limiti per sempre, ma soprattutto senza pagare Arcano e Telegram. Esatto! Non ci sono più i programmi da volta. Una volta eravate più bravi. Mike, guarda, sono in bianco e nero. Che è successo di nuovo? È terribile. Happy No Limit. Parli senza limiti con tutta Italia. Chiamano 159. Grazie per la visione.